Signori, va bene? Va bene. Cristina Mazzoni, assessore all'urbanistica, Carlo Verona, assessore alla cultura e inclusione, Carmelina Labruzza ai servizi per le persone e famiglie, Luca Ferrini allo sviluppo economico, legalità e sicurezza e infine Camillo Acerbi, assessore al bilancio e due vecchie conoscenze dell'amministrazione, Francesca Lucchi che mantiene l'assessorato all'ambiente, progetti europei e Cristian Castori, assessore allo sport e adesso anche vice sindaco. Sono questi i sette nomi presentati dal neoeletto sindaco di Cesena, Ento Lattuca, che in carica da meno di una settimana ha mantenuto la sua prima promessa elettorale, distribuendo i posti a ognuna delle diverse liste che l'hanno appoggiato nella corsa Palazzo Albornoz. Niente simboli di gruppi o partiti però, per esplicita richiesta del primo cittadino ognuno di loro ha indossato una spilletta con lo stemma del comune di Cesena. Ringrazio tutti i nuovi assessori e le nuove assessore per aver accettato questo incarico, saremo una squadra e da domani iniziamo a lavorare. Si è tenuto per sé due deleghe alla scuola e alla sanità, è un po' la linea politica, sono queste le priorità per la città? Certamente ho voluto dare un segnale su due temi importanti di cui mi voglio occupare in prima persona, naturalmente non sono solo queste le priorità ma per me hanno un significato politico molto importante. Scuola, sanità ma anche lavoro e riqualificazione delle aree degradate, una su tutte la stazione per la quale, spiega Lattuca, c'è già in ballo un progetto da 100.000 euro. Tutte cose di cui si inizierà a discutere seriamente la prossima settimana. E poi da lunedì iniziamo a lavorare conoscendo quelli che sono i nostri collaboratori, andando a incontrare tutti i dipendenti uno ad uno e martedì con la prima giunta.